Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Secondo l'indiscrezione apparsa nelle ultime ore, sull'Isola dei Famosi sta per arrivare una sorpresa sensazionale che sconvolgerà le dinamiche del gioco. . Ilari Blasi, indiscrezione sull'Isola dei Famosi, screenshot web i prossimi giorni promettono una sorpresa roboante per tutti i fan dell'Isola dei Famosi. . Secondo l'indiscrezione rilasciata in queste ore dall'influencer Deyanira Marzano, Ilari Blasi starebbe pesando a una mossa clamorosa, in grado di stravolgere ciò che sta accadendo in Honduras. . Gli ascolti stanno andando bene grazie alla squadra ben assortita dei naufraghi alla scelta oculata di Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti. Il tutto gestito in maniera sapiente dalla conduttrice romana. . Ma Ilari e gli autori sono sempre in agguato, pronti ad escogitare nuovi espedienti in grado di aggiungere Pepe alle dinamiche in corso sull'Isola. . E a quanto pare, nei prossimi giorni per accadrà qualcosa di inimmaginabile, che potrebbe sconvolgere gli equilibri che film qui si sono venuti a creare. . Isola dei famosi, Ilari sgancia la bomba, in arrivo uno sbarco da non credere. Tra i concorrenti che fanno discutere ci sono senza dubbio Roger Balduino ed Estafania Bernal, che hanno trovato l'amore proprio sull'Isola. . Ormai i due ragazzi fanno coppia fissa, ma c'è chi mette in dubbio la loro relazione, considerandola fasulla e funzionale unicamente all'ottenimento di clip. . Nelle scorse puntate, Ilari Blasi ha invitato in studio Beatrice Marino, fidanzata con Roger prima che iniziasse il programma. La ragazza ha attaccato violentemente Balduino, accusandolo di tradimento e invitandolo a dimenticare per sempre il suo nome. . Ieri poi, Ilari Blasi ha proposto sempre alla Marino di partire per l'Honduras in modo da avere un confronto faccia a faccia con il suo ex. Un colpo di scena inaspettato al quale si aggiungere la rivelazione sensazionale di Deinira Marzano, perché devono sostituire una donna, Giovanna. Fonti dicono che probabilmente la signorina, Beatrice Marino N. . D. R., partirà per un confronto ma resterà come concorrente. Vabbè devono fare delle a Alex parte 2. Ilari Blasi, indiscrezione sull'isola dei famosi, screenshot web. Secondo l'Influencer, la Marino non raggiungerebbe l'Honduras solo per rinfacciare a Roger il tradimento, ma per sostituire Giovanna Giorgevic, la concorrente che ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute. Un'eventualità che porterebbe scompiglio, creando un triangolo artistico, simile a quello che Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge hanno creato con tanto clamore nel corso dell'ultimo GF VIP Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao